La scuola deve saper entrare in contatto con questo mondo, ha la possibilità critica, il pensiero, il metodo di cui ci impossessiamo durante la mattina, lo possiamo usare davanti a tutto. Se cercate una cosa, cosa scrivete su Google, questo è decisivo e ci vuole un po' di testa per usarlo, imparate dai vostri errori, perché quando non trovate niente, voi pensate che non c'è nulla, però a fine delle volte è perché avete sbagliato la ricerca. Ci dai due spunti su a cosa credere perché non c'è la ricetta perfetta per dire questo è vero, questo è falso. Il problema è il verosimile, cioè il falso che è costruito bene, così bene da sembrare vero. Se io vi dico che ho vent'anni è palesemente falso, ma se io vi dico che ne ho 45, dite sì, è verosimile, può averne 45. E voi dovete stare attenti ai pacchi che girano in rete. Intanto dovete costruirvi un po' di senso delle fonti. Se avete un problema con il computer, a run full è affidabile. Non date mai nulla da scontato e siate critici, critici nel senso migliore e positivo del tempo. Grazie e buon digital video.